Da bere del Bordeaux del vecchio Borgogna? Niente vino, il medico me l'ha proibito. Oh, che cattivo! Acqua. Minerale. Naturale. Acqua naturale. Ho detto minerale. No, scusi, lei veramente ha detto naturale. Intendevo naturale, acqua minerale. Ma credevo che il naturale si riferisse all'acqua. No, si riferiva al minerale. Vuole che un tipo come me beva acqua naturale. Io bevo acqua minerale. Naturale. E dagli minerale. Ho scritto minerale, sì. No, no, lei ha scritto naturale, ho sentito con le mie orecchie. Ho detto naturale, ma poi ho scritto minerale. E perché ha detto naturale se poi ha scritto minerale? Ma perché? Perché era più che normale che una persona come lei non bevesse acqua naturale, ma acqua minerale. Ah, mi fate girare la testa. No, scusa, permetti cara, voglio andare in fondo a questa faccenda perché nessuno deve prendermi in giro. E se io avessi voluto acqua naturale e lei avesse scritto naturale, avrebbe detto minerale? Che c'entra. Che c'entra. Naturale nel suo caso significava minerale. Mentre minerale non significherebbe nessun caso naturale. Perché l'acqua minerale secondo lei non è naturale. C'è acqua minerale naturale, acqua minerale artificiale, che però non è nel nostro caso perché da noi è tutta naturale. L'acqua minerale. L'acqua minerale naturale, sì, è naturale, sì. E l'acqua naturale?